Correrà nelle liste dell'Italia centrale il sindaco di Arezzo Chinelli che è qui alla mia destra. Forza Italia è uno di quegli esempi che noi vogliamo coinvolgere nella costruzione di una grande famiglia popolare. Dalle indiscrezioni alla conferma indiretta. Alessandro Chinelli, sindaco di Arezzo, è candidato alle elezioni europee dell'8 e 9 giugno prossimo per il partito di Forza Italia. L'ufficialità a Roma durante la conferenza stampa nella sede del partito alla presenza del segretario nazionale di Forza Italia Antonio Tajani. Ogni candidato è frutto di un lavoro del partito territoriale, del partito nazionale, per dare voce a realtà che rappresentino veramente i territori. Alessandro Chinelli è un candidato che si presenta come indipendente civico che si riconosce nel partito popolare europeo. Io sono veramente onorato di essere qui questa mattina e di aver avuto questa proposta che ho accettato immediatamente da Antonio Tajani per partecipare come indipendente alle elezioni europee. È anche una grande responsabilità. Alla fine io sono stato eletto da una coalizione dei tre partiti classici del centro-destra, quindi Forza Italia, Fratelli Italia e Lega, ma con una componente forte data dalla lista civica che porta il mio nome ad Arezzo. Il prossimo anno scade il mio secondo mandato e mi sono domandato, beh insomma, dopo ormai dieci anni di governo di una città, cosa può fare un sindaco per essere ancora utili a una coalizione che è quella di centro-destra? Beh l'occasione si è prestata adesso, ci sono le elezioni europee, quindi benvenga questa corsa. È una sfida ovviamente per me perché devo uscire dalle mura cittadine e confrontarmi con un territorio molto più grande, di un collegio enorme di quattro regioni. Però credo che i temi che la civicità pone siano ben riposti all'interno di questo fantastico partito. Se ci si pensa bene, ci si era detti con Antonio un paio di giorni fa, Forza Italia è stata la prima lista civica d'Italia alla fine quando è nata. Quindi raccoglie tutto quello che nella società civile decide a un certo momento di dare un contributo, non più soltanto al proprio lavoro, ma anche a una fase amministrativa di tipo locale.